quindi dicevamo questo non ci dì veramente incredibile io l'ho ascoltato con molta attenzione devo dire che risulta essere non solo gradevole ma molto intimo tra le altre cose mi dicono delle idee che abbiamo un collegamento max tortora max buongiorno max buongiorno ciao mauricio ciao max come stai bene che bella sorpresa che mi avete fatto senti ho saputo che il film che hai fatto con carlo anzina è fantastico caccia al tesoro oggi 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 lo vado a vedere oggi lo vado a vedere era detto carlo poi che sei bravissimo ma questo già lo sapevo io beh appunto a tua appunto a tua aspetta c'è mauricio ti vuole salutare le altre cose siete due attori eccezionali no io volevo chiederti ma stiamo parlando del cd di cristian devo dire hai avuto molto sicuramente di ascoltarlo hai trovato in due questa quello che ho trovato anch'io in intimità o no sai che c'è cristian ha mantenuto ha mantenuto secondo me scusa non ho capito mauricio no secondo te hai colto questo nel cd ma perché tu sei il tuo amico quindi chi meglio di te no no ma io sono anche un musicista diciamo orecchista per cui un po' mi intendo no diciamo che conosci sicuramente conosciamo tutti le grandi doti canò di cristian ecco quello sì quello sì ma anche cristian è anche un musicista perché perché lui ha un orecchio formidabile a livello internazionale riesce a cogliere ancora delle sonorità scomparse che lui ricrea con delle grandi orchestre e regala queste cose belle a tutti che non ci sono più no dico su cristian questo questa dose sua un personaggio mente poliettico non sto qui certo a testa di te è un personaggio unicone però tu dall'amicizia pronto mi senti max guarda sei più bravo di me non so chi sei ma c'è più bravo di me ma ti sono parti con lui sei venuto tempo dietro qua comunque abbiamo chiamato perché devo fare i complimenti perché abbiamo letto dappertutto grandi cose su di te e soprattutto su questo film meritisce esattamente quella che non capivo dall'inizio è bravissimo perché fa invece casca a me non è tanto facile grazie grazie max ciao ciao grandi 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 grandi